Musica Liga Pro Il Gubbio impone il pari alla capolista Ascoli Mercoledì di turno c'è la Reggiana Stasera torna fuori gioco Buonasera ben ritrovati all'appuntamento con il TG Sportivo Ben seduta pomeridiana per il Gubbio Che già da ieri sera ha ripreso ad allenarsi Dopo l'emozionante pareggio interno per 2 a 2 di sabato Con la capolista Ascoli Firmato dalle reti di Tutino e Casiraghi Una ripresa istantanea dovuta al turno infrasettimanale Previsto per mercoledì sera Con il rosso-blu che sfideranno al MAPEI Stadium di Reggio Emilia La Reggiana alle ore 20 e 30 Domani allenamento mattutino Quindi nel primo pomeriggio La truppa gubbina partirà alla volta emiliana Sicuro, assente, rosato, squalificato E Galuppo uscito anzitempo sabato per un problema muscolare Che dovrà restare ai box almeno per due settimane Designato l'arbitro di Reggiana Gubbio Che sarà diretta da Vito Mastro Donato Della sezione di Molfetta Che ha già diretto due volte il Gubbio in carriera Entrambe con esiti positivi per i colori rosso-blu Successo per 1-0 lo scorso campionato Nella gara interna con Lascoli Vittoria esterna ancora di misura nell'ottobre scorso a Prato Mastro Donato sarà coadiuvato dagli assistenti Raffaele Vitiello di Torre del Greco Salvatore San Giorgio di Catania La Lega Pro inoltre ha diramato date e orari Per la 32esima giornata Con il Gubbio che farà visita al Tutto Cuoio Domenica 29 marzo Con fischio d'inizio fissato per le ore 18 Stasera ovviamente non perdete l'appuntamento Con fuori gioco In onda alle 21 su TRG Tra gli ospiti il difensore Pietro Manganelli E il centrocampista Daniele Casiraghi Nelle altre partite Valide per la 29esima giornata Del girone B di Lega Pro Il Terramo regola 2-0 La Pistoiese tallonando a meno 2 La vetta occupata dall'Ascoli La Reggiana impatta 1-1 sul campo del Tutto Cuoio Mantenendo la terza piazza Complice anche la sconfitta Interna del Pisa con l'Aquila Un KO che ha costato la panchina Al tecnico nero-azzurro Braglia Esonerato e sostituito da Pilon Quarto cambio d'allenatore anche a Grosseto Con il presidente Camilli Che ha esonerato il tecnico Stringara Dopo la sconfitta con la spalla Richiamando in panchina Mister Silva Vittorie pesanti anche per l'Ancona Che supera 2-0 San Marino E Pontedera capace di asfaltare 4-0 in trasferta il Prato In zona salvezza successi importanti Per Savone e Lucchese Mentre termina il rete bianche Tra Sant'Arcangelo e Carrarese In Serie B ha ripreso ad allenarsi Anche il Perugia dopo la vittoria interna Per 3-2 con la Provercelli di sabato Con brividi finali per la rimonta Tentata dai piemontesi Dopo che il Grifo conduceva per 3-0 Sabato ci sarà la difficile trasferta di Avellino Con Camplone che potrà contare Su Crescenze e Fazzi Mentre sia Giacomazzi che Rizzo Sono out per infortunio Sentiamo a tal proposito Le parole del tecnico Biancorosso 3 punti sono arrivati Ma potevano arrivare più facilmente Perché c'è stata una sofferenza Alla fine bestiale Non ho neanche più la voce Abbiamo fatto 70 minuti bene Complessivi Diciamo il primo tempo 30-35 minuti Poi c'è stato quel solito calo Ma non un calo Non abbiamo più giocato E questo è il discorso Ci siamo limitati a buttare sti palloni davanti E andare a fare la guerra Noi non siamo abituati in questo Poi il secondo tempo siamo entrati Colpiglio giusto Abbiamo fatto due gol E la gestione poteva essere fatta meglio Però la posta in palio in questo momento È tanto alta Quindi sicuramente c'è Ci sono tanti Non dico pressioni Però Sai Subvento un po' di paura Un po' di situazioni E c'è tanta sofferenza Avellino è una squadra Brutta da incontrare Perché non gioca E non lascia giocare Perché davanti hanno Stai giocando Trotta e Castaldo Castaldo io l'ho allenato So che giocatore è Quindi non è facile Perché non è che giocano su giro palla Loro verticalizzano tanto Ma proprio tanto Quindi è difficile andarle anche a prendere Quindi dobbiamo un attimino valutare Tante situazioni E poi scegliere gli uomini giusti Sicuramente sarà una battaglia Non sarà una partita Quindi leggendo anche Quello che è successo con il Barimo Non so se sia vero o non vero Però Noi dobbiamo andare lì E andare a fare la nostra partita In Serie D è stata una domenica nera Per Foligno e Gualdo Casa Castaldo Sconfitte rispettivamente Con Gavorrano e Villa Biagio Falchetti battuti di misura Dalla squadra dell'ex Nofri Decide un gol di Ropolo Il Gualdo invece si illude Con una rete di Cotroneo Poi la rimonta del Villa Biagio Ribalta la partita Sino al 3-1 finale L'impresa della giornata È firmata dal Bastia Che ferma la capolista Siena Sull'1-1 Anche se non ne approfitta Il Poggi Bonzi A sua volta bloccato sul pari Sorride solo il Sansepolcro Che travolge 4-1 il Flamini A pari a reti bianche Tra Trestin e Pianese Se ne parlerà nel dettaglio Questa sera In Serie D in fuorigioco Salotto sportivo Del campionato interregionale Che andrà in onda A partire dalle ore 22.30 Su TRG Continua il dominio Del Città di Castello In eccellenza Dove si è giocata La venticinquesima giornata Basta un guizzo di Pagliardini E i biancorossi Vincono sul campo Del San Marco Juventina Nonostante le assenze La squadra di Cerbella Mantiene il ritmo in vetta Resta il più 6 sul Todi Che però non perde colpi E vince il derby Con il Massamartana Continua il momento positivo Dell'Angelana di Cocciari Che batte 2-0 La Ponte Vecchio di Balducci L'eroe di giornata È l'attaccante Del Vistorgiano Mortaro Che rifila una tripletta Da ex di turno Alla Subasio La Narnese passa a Cannara Successo esterno Anche per la Nestor A San Sisto Il Ventinella Regola 2-0 Il Nocella Mentre il Castel del Piano Cede di misura A Deruta In A1 femminile Di pallacanestro Acqua e sapone Umbertide Lascia le briciole All'Avezzini Parma Conquistando l'intera Posta in palio Per 80-69 Ed agganciando Venezia Al quarto posto In classifica Domenica prossima Trasferta sul parchè Della corazzata Schio In C nazionale Maschile Buona prestazione Per il basket guppio Che cede solo nel finale 75-65 A Tolentino Mentre in C regionale Umbertide Sbancatodi Grazie alla performance Da urlo Di Crispoltoni E Gualdo Cede al fotofinish A domicilio Di Assisi In promozione La polisportiva guppio Non regge L'urto di Spoleto Domenica funesta Nella superlega Di volley Per le formazioni Umbre La Sir Safeti Perugia Crolla Al palevangelisti 3-0 Sotticolpi Di Treia Mentre Alto Tevere Cede nettamente Sul campo di Trento In B1 femminile Sorride Al tie-break San Giustino Contro Roma Mentre in B2 Torna la vittoria La New Font Mori Gubbio Che batte 3-0 A Rabona Pescara Chiudiamo parlando Di ciclismo Perché sabato Gubbio è stata Protagonista Nella quarta tappa Della classica Corsa Tirreno Adriatico Vi lasciamo Con questo servizio Augurandovi Una buona serata Eccolo 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 E' passata per Gubbio La quarta tappa Della Tirena Adriatica 2015 Una delle rassegne ciclistiche Più titolate Di sempre E di rilevanza internazionale Il pubblico gubino Ha potuto rifarsi gli occhi Di fatti Sabato intorno alle 12.30 Ammirando le pedalate Di Vincenzo Nibali L'eroe di Francia Dell'ultimo tour Il più titolato Alberto Condador Il colombiano Unaro Quintana Il ridato al giro 2014 E che ieri sul Terminillo Ha conquistato Tappemaglia Oltre ad altri corridori Di primo piano Arrivata da Indicatore Frazione di Arezzo In un percorso Di 226 km Articolato Con quattro Gran Premi della montagna E che passava Da città di Castello D'Umbertide Per poi transitare Proprio nella città a Gubina Passando prima Per Mocaiana E poi per un percorso Che si è snodato Tra via di Tifernate Il viale del Tratto Romano Via della Rimembranza Sino a scendere Per via di Porta Romana Per arrivare Sino allo svincolo Di Osteria del Gatto E prendere per Fabriano Con poi passaggi Per Castello San Pietro San Severino Marche Sino all'arrivo Di Castello Raimondo La gara è stata contraddistinta Dalla lunga fuga Del duo australiano Formato da Luke Dombridge E Matthew Heyman Dell'Orica Green Edge Che ha raggiunto Un vantaggio massimo Di oltre 8 minuti Sul gruppo dei Big Come si è visto Proprio nel passaggio Gubino Entrambi sono rimasti Coinvolti in una caduta Nella parte finale Della tappa Sulla prima delle due sadite Di Crispiero A Castello Raimondo Sono scattati Dal gruppo Giovanni Visconti Michele Scarponi E Giulio Larredondo Ma a vincere In solitaria È stato il 27enne Olandese Del team Sky Voter Pulse Arrivato sul traguardo Con un vantaggio Di 14 secondi Su Rigoberto Uran Della Quick Step Che regola Il gruppetto in seguitore Tanti appassionati E curiosi Presenti Tra le strade gubine Per ammirare I campioni dei pedali Bissando l'edizione del 2008 Che ebbe in quel caso Il punto d'arrivo Proprio in piazza 40 martiri Proprio in piazza